Logos Web Radio Buongiorno, da quanto tempo allena? Allena questa squadra da più di un anno ormai, comunque è nata l'anno scorso, questo è il secondo anno di cui noi siamo presenti qua. E qual è la sua formazione? Io sono educatore professionale, sono istruttore di arti marziali fondamentalmente, ma sono anche allenatore di calcio e quindi ho unito al discorso di educatore e al discorso di allenatore e abbiamo fatto questo progetto di questa squadra per far divertire i ragazzi ma per dargli anche un contenuto di tipo educativo. Quindi la cosa fondamentale non è solo giocare ma è anche come si sta insieme. È la prima squadra che allena? Di calcio, sì. Qual è il metodo di allenamento che usano? Allora, noi prima di tutto diamo valore ai singoli ragazzi, sono importanti loro, quindi a ognuno di loro cerchiamo di tirar fuori il meglio, sia dal punto di vista sportivo ma soprattutto dal punto di vista umano, in maniera tale che insieme possano fare un gruppo ed è il gruppo che poi va insieme a giocare, a fare le partite perché passano molti tornei all'interno di vari circuiti di tornei che sono sia qua a Bologna che fuori Bologna. Come vede la sua squadra? I ragazzi quest'anno hanno fatto un grossissimo lavoro insieme a me e agli altri educatori perché molti di loro si conoscevano ma molti anche invece si sono conosciuti qua, quindi hanno proprio fatto un lavoro di coesione e adesso sono una squadra, quindi io sono molto molto contento, molto fiero del lavoro che loro stanno facendo e che hanno fatto, quindi io la vedo in maniera molto molto positiva. Quali sono le responsabilità, quali sono le cose che invece ti piacciono o quelle che non ti piacciono? Essere capitano consiste nel far allenare la squadra e correre più degli altri e andare in doccia subito? Penso di sì. E' dare l'esempio? Sì esatto. Bene, questo era importante perché Fabio è un bellissimo esempio per i ragazzi perché è sempre disponibile, sorridente, un gran lavoratore e soprattutto la cosa fondamentale ha un buon umore che è pronto a gioia, quindi questa è una cosa che fa spogliatoio si disse. Quindi volevo ringraziarlo approfittando di questa intervista. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.